Buongiorno e bentrovati. In apertura, come avete sentito dai titoli, i numeri drammatici delle morti bianche in Basilicata, dati record in questi primi otto mesi del 2018. Percentualmente sono i più elevati d'Italia. Ce ne parla Beatrice Volpe. Tra gennaio ed agosto la Basilicata ha raddoppiato il numero dei morti sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 6 a 12 decessi, di cui 10 durante l'attività lavorativa vera e propria, due in itinere, cioè mentre le persone decedute stavano raggiungendo il proprio luogo di impiego o rientravano a casa, due i morti nel solo mese di agosto. Un record negativo che si inserisce nelle statistiche nazionali, che pure sono allarmanti anche per le regioni del nord. Quest'anno, infatti, le vittime del lavoro sono aumentate del 4,5%. Erano state 682 e nei primi otto mesi del 2017 sono arrivate 713. I dati sono stati resi noti da Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul lavoro Vega Engineering, sulla base dei rapporti INAIL. In Basilicata, gli infortuni mortali riguardano in particolare l'agricoltura, dove c'è meno consapevolezza dei rischi. Il necessario è perciò una puntuale opera di sensibilizzazione sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro, ma non è facile quando si tratta di piccole realtà produttive.